Ciao, sono il dottor Max, in questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Comparsa ad ondate di chiazzette rosse pruriginose su testa, viso, tronco e arti, cause e sintomi. La comparsa ad ondate di macule pruriginose, di colore rosso vinoso, che col tempo evolvono in piccole vesciche ed incroste destinate a cadere a una manifestazione tipica della varicella. L'esantema di questa malattia si manifesta dopo 11-15 giorni dal contagio. 24-36 ore prima della comparsa delle lesioni cutanee e varicellose, possono presentarsi dei sintomi prodromici che comprendono malessere generale, irritabilità, inappetenza, cefalea lieve e febbre solitamente moderata, intorno ai 38,5 C. L'eruzione iniziale di tipo maculare compare in particolare su torace, volto, cuoio capelluto, addome, cosce e parte superiore delle braccia. Il rash della varicella può essere generalizzato, nei casi gravi, o più limitato, tuttavia quasi sempre interessa la parte superiore del tronco. Nell'arco di poche ore, le chiazzette si trasformano in vescicole su sfondo eritematoso, spesso intensamente pruriginose. In seguito, le lesioni diventano pustolose e vengono sostituite da crosticine, il processo dura circa 4-5 giorni. L'esantema della varicella ha la caratteristica di presentarsi in ondate successive, quindi sul corpo saranno presenti lesioni a diversi stadi di maturazione, in pratica, alcune macule compaiono nel momento in cui le vescicole precedenti iniziano a devolvere in croste. Le nuove lesioni solitamente cessano di manifestarsi a partire dal quinto giorno e la maggior parte delle vescicole sono nella fase crostosa a partire dal sesto giorno. La maggior parte delle croste scompare entro 20 giorni dall'esordio della malattia. Prima che fosse completamente eradicato, la varicella poteva essere facilmente confusa con il vaiolo. A differenza di quest'ultimo, però, le lesioni varicellose hanno una dimensione variabile a seconda del momento in cui vengono a crearsi, mentre le pustole vaiolose sono tutte all'incirca della stessa dimensione. Inoltre, l'esantema della varicella non si localizza normalmente al palmo delle mani e dalla pianta dei piedi. Possibili cause di comparsa adondate di piccole chiazzette rosse pruriginose su testa, viso, tronche e artiche col tempo evolvono in piccole vesciche e poi in croste destinate a cadere. Comparsa adondate di piccole chiazzette rosse pruriginose su testa, viso, tronche e artiche col tempo evolvono in piccole vesciche e poi in croste destinate a cadere. È un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Vaiolo, varicella. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte. MyPersonalTrainer.it